La Link Campus di Catania ha avuto modo di ospitare con nostro grande piacere il Vice Ministro Mario Giro, il Vice Ministro agli Esteri, che ha avviato un primo incontro con i nostri studenti su un approfondimento molto importante e di strettissima attualità per il nostro Paese, legato alle azioni del nostro Governo e del Ministero degli Esteri in particolare in tema di migrazione e di cooperazione internazionale, ma soprattutto offrendo un focus veramente interessante sul tema delle possibilità di integrazione e di sviluppo di iniziative e di programmi sia a livello interno che a livello di proposte all'interno dell'Unione Europea. Questo per noi è un'occasione fondamentale dal punto di vista didattico e formativo proprio per il profilo che è questa sede universitaria ha deciso di darsi, questa università con questo piglio internazionale.